ahahah ahahahah minchia non posso ridere cazzo ahahah e fai le valigie possiamo andarci nel nostro posto? è da due ore che giri intorno non voglio allenarti con le magie non c'è windpup prima devi trovare le pagine altrimenti non funziona sembra un bambino non c'è windpup battere su prendi la grande scena andiamo nel mondo nuovo alica set elisa set ma la cassetta non puoi andare esatto bisogna andare bisogna fare qualcos'altro ma sono partito per lo stesso mondo si sei uscito e sei tornato dentro no 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 non devi andare da lui devi andare da Dio è vero dove è Dio salto un'altra casa su cioè la città ha la casa abbandonata presumo no no dobbiamo trovare la serratura in questo mondo che è al secondo terzo distetto a salire pausa un secondo tutto ti 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 ho offerte non sono l'unico che sto mai soccino verso totale diverso e fatto per i voti posto la testa per te questa è la riscaldi sono dietro di te che giro il grasso salire i stati e che la scelta ospato ricordo sulle campagne d'accordo il tribo tu cugino apre fatto di rubio ricorda dotticorte di ricordati ma lo sai che io non mi ricordo ti prego ricordati di fante del bando quello cura tira tante non per parte cura io io sono tipo oggi non lo uso mai io sì posto puoi suonare le campagne suonare le campagne ci sarà un motivo per cui ci sono no così caldo shishoo c'è di lì ci andiamo dopo shishoo vedi che non bisogna no scusa avvicinati non esce il punto di domanda no fidati non bisogna andare di qua mi raccomando conto su di te c'è c'è il coso ecco pronto ok fottitene usa thunder spamma thunder è il modo per farli fuori ma li fai fuori tutti velocemente non mi interessa e non rischi di cadere non cado giuro che se cadi no con quelli non spammare thunder salta devi saltare è una finestra non sembrava alu alcazze veritazze malacazze veritazze dove stai andando bisogna andare a questo secondo distretto dove stai andando vedi qua thunder ti salva il culo e tu cadi bravo complimenti io cosa avevo detto il paletandolo di sopra non si poteva fare niente eh no ci sarà un motivo per cui ti manda di sopra l'acqua testo di sconfitto non so che poi e poi secondo me ma non pare tra quelle suona piazza ma quello si possono sonare questo solo di bellezza attirci colpi così cominci ancora sulle campagne c'è chi esce la scritta esamina però non possiamo perché lui sta pippo grande pippo gli hp aumentano vai pippo schiva 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 che culo vai esamina non ti allontanare se non ne spawnano alti visto devi andare dove ci sono le campanella in alto c'è qualcosa per forza più veloce avevo letto l'usbergo no non si dice l'usbergo no spada a tipo spina si va bene capo amare in cose del scarlo scambi giocato troppo scari troppo dicino le campane le campane hanno qualcosa che no fia di fare qualcosa con le campane con ci sono campanelli di pd campate ok fermo allora tu da qui devi poterti spostare da qualche parte smettila spostando moda per per scendere guardati attorno facciamo farò un bagasso tanto al mondo per aggrappare in un punto come si gira visuale la cina merda scendere 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 dove siamo adesso al piano di sotto se che ti posso giocando un gioco su steve scogge a testa a destra si è tranquillo se tu sti se che si giochi di stima di claudio è partito in mille 6 per 9 tutto il minimo a porto scendere scendere aspettare aspettare le campane la nazione smettere di dirci c'entra le campane devi poter far qui qui intorno ci deve essere una campana vai a sinistra ci deve essere qualcosa vedi se poi tipo lanciarti in posti strani forse ho capito però devi scelto del resto si toglie le casse e poi ci puoi andare no si invece c'è un trio lì davvero beh bisogna togliere queste casse andiamo di qua ci deve essere per forza qualcosa in questa zona nuova senti appena spawni di la spam a thunder che li ammazzi tutti non sono tipo magie l1 triangolo non ti dico di usare le magie premi l1 triangolo e continua a premere il triangolo tenendo premuto l1 ancora 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 devi poter andare da qualche parte se no perché cazzo non ho messo un passaggio qua guardati attorno bene premi di select mi pare allora da dove possiamo andare da qua? da nessuna parte la faccia di pippo è inquisata ta 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 perché ti stai guardando le parti false? è un maniaco guarda torno indietro più là più là eccolo lì cartolina non ci serve un cazzo ma vabbè ecco allora cosa serviva sto passaggio prendere la cartolina dai non sprechiamo tempo quando troviamo torniamo vai uccidilo ok abbiamo fatto qualcosa non sappiamo cosa non sappiamo cosa c'è tipo dei meccanismi strani probabilmente tipo ti ha liberato la strada per la campagna strano così caccibottoni strano le casse eppure qualcosa deve essere successo che cazzo eppure sti così volano anche quello elimina quello che cura la vita che hanno pubblico class qui vuoi combattere cazzo 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 minendo gara che adesso può attivare la campagna cazzo 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 bova in piazza non lo so non ho idea non mi ricordo ok allora ce l'abbiamo io faccio partire la registrazione praticamente mi porti pure sfiga siamo andati da lyon perchè quel genio cioè dovevi parlagli due volte lui ti dava un oggetto non potremmo andare da prima no no infatti spirito della terra poi siamo andati a parlare con sid e lui ci ha dato un libro antico ora stiamo portando entrambi qua dentro sempre che john ce la faccia cazzo che poi scusa sora non è capace di aggrapparsi e salire no non sa nuotare nuota cagnolino guarda se muovo di nuotare questo potresti perchè tu non hai visto pippo come nuota pippo in modo strano e gli popota mi erano più comodi di sti cosi cazzo e beh gli popota non si muovevano non so che così anacca perchè ma guarda la faccia di pippo un cane 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 non ti non e l'ho accorto mi sto grattugiando parla hocieto il mio libro ho ho volete sapere che il no e quindi pippo si ma non mi interessa si va bene p勤 va bene mettilo dove ti parlo non ti interessa s si chiede la fatta smontare la foto turchino c'è questa ottio ottio chissà chi sarà mai bdb bdb ieri abbiamo simba ecco pensieri poi chiuso i miei pensieri sara ti prego salta dacora sulle campane ci abbiamo fatto no no rompe le palle no non devi nessuno ti chiesto di tanto cosa lo facciamo fare adesso lo facciamo quando avremo tutte le pagine adesso è inutile uno spreco di tempo al massimo cosa ti danno una pozza ma neanche dai esci tanto non serve a niente e lo so devi aspettare l'immagine non vedi ingrandimento sara che è diventato un nano paperino e pipo che non ci sono che poi tu devi recuperare le pagine mancanti peccato che cioè non siano pagine infatti sono blocchetti blocchetti mancanti dai devi andare in alto a destra lì si non c'è più attacca c'è colpisci perché fa differenza oddio siamo diventati merlino nooo era bellissimo eravamo diventati merlino l'hai visto? non l'ho visto l'ho visto allora rispondi no? oh c'è un oggetto c'è un trio giallo possiamo farli tri gialli? no sono tutti i diritti di blu rossi dico quindi non c'è non morire stra lontano torna indietro accelerati veloce più veloce prima 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 che facciamo non c'è non c'è vediamo e poi prima dalle sono male campo ma tic per mosca mosca e zitto tic testo a nero la non c'è c'è pure un filmato mamma mamma pipo qqq qqq qqqq rivo riku che c'è anche il bel molto più figo del nostro rara 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 veramente tu rara Grazie.